Dopo il grande successo della riforma di Equitalia dalla parte dei contribuenti, possibilità di allungare le rate fino a dieci anni, impignorabilità della prima casa e dei beni dell'azienda, ora un altro grande successo liberale della Commissione Finanze con l'approvazione di una delega fiscale che consente veri tagli di spesa, veri tagli di tasse, vere riforme. Se il Governo sarà in grado di attuarla noi ci confronteremo positivamente, se invece il Governo Renzi comincia con più tasse sulla casa e sul risparmio noi diremo no.